ho all'attivo 4 ore di sonno perché ho fatto la nottata per far uscire questo video 4 ore di sonno però che faccio vi lascio senza il video delle impennate e no prima impennata vediamo come esce male non è stata male non è stata ma io avete ragione quando dite che hanno le dita sul freno ci avete molta ragione comunque dopo tutti questi episodi di imparati impennare devo cambiare il frino italiano pizza pasta mandolere baila reggaeton ton 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 comunque avete pareri molto discordanti sull'impennare però perché giustamente ognuno c'ha il proprio metodo c'è chi mi dice di dare più sbracciata chi mi dice di dare meno sbracciata chi di alzarmi con il culo chi di mettermi un po' indietro con il culo però giustamente ognuno ha il suo metodo però mi fa tanto piacere che lo condividete con me che alla fine se sto imparando e anche grazie a voi mamma mia oh e manco mi entra in testa che devo mettere la reddita sul freno non mi entra non mi entra molte le faccio storte questo devo ancora capire il motivo però il motivo va capito prima che finisco nelle terre ma guarda se non la smetto di accelerare ma 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 resse cazzotto in capo se solo avesse più coppia porca p***a se solo avesse più coppia e la bella 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 cicciottella mi piace quando quando che ti piace a te che da mi piace quando impenni e lo abbassi io devo veramente ancora capire di che colore questa felpa non me ne capacito perché ci sono troppi pareri discordanti e non mi piace questa cosa come il vestito bianco e oro no come è bianco e oro o nero e nero e nero e nero e nero e blu c'era chi lo vedeva in un modo e chi lo vedeva in un altro voi questa felpa di che c***o di colore la vedete c'è cane polacco cane polacco aspetta fammi andare da cane polacco è lui cane polacco piccoli ma come si bella che c'è un amico oggi saluta youtube tu chi sei vieni qua tu sei cane bulgaro cane polacco e cane bulgaro ma è femmina questa è la tua fidanzata è un tuo amico chi è no è un tuo amico c'è il pisellino ma la tua casa dove sta che fai tu nella vita cosa fate tu e il tuo amico tutta la giornata mi spiace lasciarlo per strada ora che devo fare è tu tu cane bulgaro vieni qua vieni qua non ti metti al pecora vieni non mi sporcare la gopro tu cane polacco vada ad impennare fai il bravo tu a niente ormai cane cane polacco è diventato la mascotte del di questi video e ha portato anche un amico the next day oggi a differenza di ieri odio i carabinieri ho dormito quindi sto bello carico infatti questa ve la dedico no c'è il brecciolino a terra non vi dedico un c***o questa ve la dedico ah la cacca che faccio ogni volta questa veramente ve la dedico no cos'è questa m***a acqua a terra no no cos'è questa m***a acqua a terra no che cos'è è terra è terreno potrebbe dare molti problemi lo sai io ho le ruote consumate porca p***a noia è tutto sporco come è successo ieri stava bene ah io impenno sullo sporco e non me ne fotte proprio mamma mia ha slittato malissimo sul terreno ma perché c'è questo terreno qua a terra stasera come faccio a re indirizzarlo quando va storto c'è se prende la con bella la con la a se prende la converge con be convergenza mamma mia mamma mia mamma mia è storto ma che cosa o ho 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 fortissimo ah 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 vada di nuovo storto che palle vediamo come sono uscite queste pinne queste pinne è questo trattore che sporca tutto però sta lavorando e non gli posso dire niente tutta questa zona è off limits tipo questo, cioè non sembra terreno, questo sembra merda ma spero vivamente non sia merda terzo giorno stamattina mi sono svegliato con un dolore alle braccia incredibile, veramente incredibile ma non si molla un cazzo vai uomo non devo avere paura, non devo avere paura tanto sforzo per imparare ad alzarlo e poi che fai? se lo abbassi allora sei cogl***o mamma mia mamma mia i paraoli addio addio paraoli addio addio paraoli c'ho un vuoto nella pancia io non so se dalla copro rende quanto si è alzato però credete marca p***a niente cane polacco poi oggi impegniamo senza guanti ma giusto perché li ho dimenticati a casa è il quarto giorno e infatti sto proprio distrutto oh storto si è alzato tutto 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 di gas oggi è stracattivo l'SH non la so che c***o c'ha avevo il microfono un poco storto addio c***o mi prendo a coller ho fatto belle impennate fino a mo the next 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 day quinto giorno non si molla un c***o non si molla tanto si molla quando si fa un incidente no stasera sono troppo carico fermati 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 il microfono sta bene? no non stava bene guarda se lo devo abbassare guarda 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 dai 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 no non lo abbassare non lo abbassare non lo abbassare non lo abbassare no mamma mia non andare storto basta secondo me devo fare un attimo benzina mamma mia come mi sono piaciuto di nuovo come prima vai forse devo mettere i guanti forse forse mamma mia mi sono fatto male alla gamba aia 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 ah l'ho appoggiato a bruttissimo a terra mamma mia aia aia 117 aia 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 dai che prima o poi facciamo anche i circle con l'SH vai a grattare ci devo arrivare per forza brello 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 paura paura e poi prendo troppa velocità ma che cazzo è successo si ma mi è mancato l'SH sotto acceleravo ma non andavo fra fra oa mezza volta che riesco a mantenerlo e ti abbassi pure dita sul freno dita sul freno aspetta pausa pausa 5 minuti dopo allora ora molto più nel chill guarda di nuovo di nuovo mi è mancato l'SH cioè ha proprio dei mancamenti e non aiuti così fra secondo me devo fare un attimo benzina un'altra volta no e dai fra però c'è proprio un vuoto di motore che non accelera più e poi giustamente entra il freno motore guarda di nuovo dai fra ma perché poi è una sensazione orribile cioè mentre sto in impennata boom il freno motore si abbassa vedi proprio di nuovo secondo me devo fare un attimo benzina per questo video basta wagyu sto stanchissimo mi sono messo qua per ammirare 5 minuti il tramonto con le braccia devastate quindi vi mando un bacione wagyu tanto tanto amore ciao 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 bocchinara bocchinara tutto a posto tutto a posto ma io sto vedendo dei cani ultimamente sono due cani due cani marroni mica sono i tuoi non sono tuoi ah ok quindi non sono randaggi no no è a loro ah no perché li vedo sempre per strada tutto a posto è bellissimo questo ci stava abbandonato tutti abbandonati li prendi tu come è chiatta però perché è incinta è incinta li regali i cuccioli eh sì fai bene fai bene ma tu dove sei? rumeno rumeno cioè la famiglia tua sta in romania ah non sposato stai bene da solo si fratello oggi tutti donano furbezza ho chiamato anche me là di là l'importante sono la salute e il lavoro poi tutto lo resta un di più quindi cane polacco c'è una famiglia eh gg per cane polacco sono contento sono contento faccio non giro ma palese aca non denga vaura denga darga volacca yeah denga darga volacca aca Grazie a tutti.